I vaccini sono uno strumento importante perché ha permesso l'assenza di epidemie. Ad esempio questo cartellone che abbiamo alle spalle scrive chiaramente a un certo punto prima di rischiare informati 34 dosi di vaccino a 0 a 16 anni senza alcuna epidemia. L'epidemia non c'è perché si fanno i vaccini. Fanno discutere i tre maxi manifesti affissi ad Arezzo dalla Comilva, coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione. Da qualche giorno campedano nel centro città e a prendere posizione per primi su questa campagna nazionale, in Toscana le città sono Arezzo e Viareggio, sono stati i consiglieri comunali Meri Cornacchini ed Angelo Rossi. È una cosa veramente indegna questa, una campagna di disinformazione pura nei confronti di un argomento sensibile che tra l'altro c'è una legge nazionale, quindi contravviene anche a una legge nazionale. Immediata la risposta anche dell'assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti. Questi verranno rimossi? Dunque, io vieri ho parlato a lungo con il comandante della Polizia Municipale che si è immediatamente attivato per passare come di procedura il tutto alla procura. Quindi a me verrebbe da pensare di sì perché il messaggio di fatto contraddice la norma dello Stato e io quindi non penso proprio, sarei anche molto preoccupata se potessimo fare manifesti dove si contraddicono le norme dello Stato, per cui riterrei che buonsenso vorrebbe che si venissero rimossi.